Visita in Abruzzo del delegato della Commissione Europea Luigi Nigri per quanto riguarda la gestione dei fondi PORFEST. In particolare, sono state visitate alcune aziende del polo di innovazione automotive a Castellalto e a Montesilvano. In quest'ultima è stato messo in risalto il progetto innovativo denominato Shelter, che consiste nella creazione di un veicolo trasformato per favorire consegne di genere alimentare a temperatura controllata, un sistema che da un lato permette di ridurre l'impatto ambientale generato dai veicoli commerciali e al tempo stesso di garantire una migliore tutela della tenuta dei prodotti alimentari trasportati. La visita di Luigi Nigri in Abruzzo è destinata a controllare le strutture pubbliche e private beneficiari di finanziamenti europei per progetti attivati nell'ambito dei PORFEST 2007-2013. Abbiamo già visitato un progetto significativo, anche questo è molto significativo, che ci mostra con molta chiarezza e con dei fatti che è possibile avere delle forme di collaborazione utili e proficue tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa, per rafforzare la presenza dell'Abruzzo sui mercati e quindi avere più ricchezza e più posti di lavoro.